Si tratta di un invito, di un invito rivolto ai viaggiatori che passano per l'Abruzzo, agli ospiti temporanei, agli stessi abruzzesi che l'estate possono avere più tempo e curiosità da dedicare alla scoperta del nostro territorio. L'invito racconta di un territorio pieno di cose interessanti da scoprire, è molto semplice, se hanno una mezza giornata possono immaginare di dedicarla a un piccolo viaggio per le colline Terramane. Colline Terramane non è solo un vino, ma è un territorio, un territorio pieno di abbazie, di borghi medievali e di cantine. Le cantine raccontano il territorio, allora per conoscere il territorio consigliamo di passare anche per le cantine e venire a visitarle. Lo si può fare contattando le singole cantine, l'elenco delle cantine si trova sul sito collineterramane.com dove c'è una pagina dedicata al progetto Dear Wine. Lì si trovano tutti i riferimenti delle aziende, si trovano le attività che le aziende svolgono in azienda e le cose che si possono fare nelle varie cantine. L'invito è quello di contattare le singole aziende, magari quelle più vicine o quelle lungo il percorso che si è scelto di fare, per concordare una visita insieme. Un'esperienza piacevole, in allegria, che però speriamo possa lasciare i nostri ospiti più ricchi e pieni di nuove esperienze.